Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro io vado a pescare. Gli dissero veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca ma quella notte non presero nulla. Quando era già l'alba Gesù stette sulla riva ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro figlioli non avete nulla da mangiare. Gli risposero no. Allora egli disse loro gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore. Simon Pietro appena udì che era il Signore si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di braccia con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti la rete non si squarciò. Gesù disse loro venite a mangiare e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato Gesù disse a Simon Pietro Simone figlio di Giovanni mi ami più di costoro? Gli rispose certo Signore tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse pasci i miei agnelli. Gli rispose certo Signore tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta Simone figlio di Giovanni mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene e gli disse Signore tu conosci tutto tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù pasci le mie pecore. In verità in verità io ti dico quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio e detto questo aggiunse seguimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.